Bene, avete sentito questa intervista molto interessante al professore Daniele? La legalità, lui ha spiegato bene cosa intende, ha anche fatto una premessa dicendo quando ha parlato durante la manifestazione, si è tenuto molto equidistante, però è chiaro che anche lui ha un suo pensiero che ha espresso. A proposito di legalità, andiamo a parlare un attimo del Consiglio Comunale di Vittoria. Voi sapete che a Vittoria c'è un momento molto caldo, il Consiglio Comunale di ieri ancora non è stato caricato, siamo noi che registriamo il Consiglio, lo mandiamo sulla pagina YouTube di Tele Iblea, Rete Iblea. Non è stato ancora caricato, ma c'è stato uno scontro perché è stato invitato a parlare l'onorevole di Pasquale. La verità è che a Vittoria, come vi dicevamo, c'è un momento molto difficile con il sindaco Aiello che addirittura si parla di una mozione di sfiducia che sarebbe quasi pronta e che manca forse uno o due voti per poter presentarla e farla passare. Quindi la politica si sta mobilitando per dare una mano all'onorevole Aiello che è un sindaco che ha molte molte qualità, che però in questo momento trova grandi difficoltà a farsi capire che lui è un tipo diretto, le cose le dice, forse ha fatto il sindaco tanti anni fa e non è più come una volta. Però ieri c'è stato questo scontro che addirittura ha portato all'interruzione del Consiglio Comunale perché secondo le opposizioni l'onorevole di Pasquale che doveva parlare di sanità non avrebbe dovuto intervenire. Quindi c'è stata vergogna, compagnia bella, ma le parole come sempre accade l'aula è stata interrotta e è andata così. Ne parleremo ancora, invece come ogni vera lì abbiamo il nostro ospite fisso Cesare Borghino. Vediamo.